parto così improvvisando questa testimonianza perché se attendiamo che la venga buona che io provi il tempo di scrivere bene tutto non ne usciamo più faccio questa testimonianza perché mi sono trovato veramente bene nonostante possa dire che quando più o meno a metà della one long session mi so mi si accede la lampadina diciamo che mi sono innervosito ma non nei confronti delisa ma nei confronti di me stesso perché mi ha aiutato a togliere non aggiungere o cambiare proprio togliere tutta la sovrastruttura che mi ero creato siamo tornati alla base alla partenza la cosa più semplice che avevo sotto il naso da sempre sul quale avevo creato troppe sovrastrutture e da bravo coach degli altri non di me stesso non me ne ero reso conto ed è per questo che abbiamo bisogno di coach e mentori anche noi e mi ha spronato mi ha stimolato mi ha fatto riflettere e sono ripartito da lì togliendo le sovrastrutture e questo mi ha dato una spinta nuova diversa e più leggera mi si sono abbassate le spalle come si usa a dire di semplicità quindi la consiglio consiglio la one long session consiglio elisa perché perché veramente in poco ti fa arrivare al nocciolo non tanto del problema ma per quello che è stato per me al nucleo al core come dicono quelli bravi al nucleo profondo e da lì puoi ripartire aggiungendo quello di cui è realmente bisogno e non tutto il resto quindi è stata una splendida esperienza che consiglio di rifare volentieri e probabilmente forse lo rifarò per altre questioni